Arriva anche la prima vittoria casalinga per l'Alzano Cene che vince per una rete a zero sul Trento. La seconda vittoria consecutiva porta serenità e ottimismo e tre punti classifica preziosissimi. In questa partita la squadra seriana ha saputo tenersi ben stretto il vantaggio guadagnato al quindicesimo da Agostinelli con la sicurezza di una retroguardia solida. Dunque l'Alzano Cene dice stop al periodo nero con un gran bel gol di Agostinelli e costruendo numerose insidie che mettono alla prova Offer il massimo difensore gialloblu. La squadra ha capito come deve giocare, i giocatori, i miei ragazzi hanno capito quello che devono fare. Se giocano così come oggi, come domenica scorsa, con la voglia, con la determinazione, vedrai che fanno fatica tante squadre. Il Trento entra in campo con Grinta e già al minuto 7 Bau firma il primo tiro pericoloso. Poco dopo è spampati a impensierire Offer dalla bandierina, ma il portiere ospite non si fa sorprendere. Al sedicesimo arriva l'Eurogold di Agostinelli. Spampati calcio al corner, la palla è respinta dalla difesa del Trento, ma l'ex centrocampista della Colognese carica il destro e al volo in sacca di prepotenza sotto la traversa. Alzano Cene in vantaggio è motivata a continuare bene. Al trentacinquesimo infatti bella ripartenza bianconera ispirata da Dattoma, che serve uno scatenato spampati. Il suo tiro però finisce dritto tra le braccia di Offer. Al trentasettesimo ancora Alzano Cene vicinissimo al raddoppio. L'assist dalla destra di Dattoma è millimetrico per la scivolata in area di Valenti e Offer, che non è in campo per stare a guardare, interviene preciso e respinge. L'Alzano Cene continua a crederci e chiude il primo tempo con il vantaggio salvaguardato. In apertura di ripresa Offer è già chiamato in causa al minuto 3, dalla triplice intesa Fornoni, Valenti e Spampati. L'Alzano Cene continua ad essere insidioso, ma la pioggia battente ha reso pesantissimo il terreno di gioco. Il Trento ha tre possibilità per pareggiare, con altrettanti calci piazzati. Tre punizioni in posizione pericolosa, ma nulla di fatto. Il prossimo match che metterà alla prova i ragazzi di Mister Sgro è l'anticipo della decima giornata di campionato con il Mantova, che si giocherà sabato 6 novembre alle 14. Sabato abbiamo un incontro difficile, un campo difficile. Sappiamo che il Mantova è una squadra di categoria superiore, ha vinto anche oggi, lo sta dimostrando. Però noi ci facciamo la nostra partita, ce la giochiamo e oggi ho chiesto i tre punti, perché se le cose dovessero andare male, almeno siamo coperti sotto quel punto di vista. Grazie.